Il Campobasso si è ritrovato nel pomeriggio di ieri per il primo allenamento settimanale. Sorrisi e clima disteso presso il sintetico Acre, dove erano presenti tutti gli effettivi a disposizione di Foglia Manzillo. Notizia lieta d'incontro tendenza rispetto al recente passato, quando il turno domenicale lasciava registrare qualche vittima, per così dire. Tutti presenti, tranne Yander, Bisceglie e Vecchione, entrambi classe 99, attenzionati dal Napoli, che ha richiamato i ragazzi in questione per una settimana di prova da svolgere a Castelvolturno. Il Campobasso comunica la notizia con grande soddisfazione e allo stesso tempo rassicura tutti. I ragazzi faranno ritorno nel fine settimana nel capoluogo e almeno fino al termine della stagione giocheranno con la maglietta rosso-blu. Risolta anche la questione del campo di allenamento, la presidenza del Campobasso ha siglato un accordo con il vertice delle Acli per consentire che la squadra rosso-blu si possa allenare tutti i giorni della settimana sul sintetico Acli, senza ostacolare in alcun modo il lavoro anche della società ospitante. Le ultime due vittorie consecutive possono raccontare di una squadra in buona salute, che sembra essere tornata alla prima fase della stagione, quando subiva il giusto, ma era anche capace di controbattere, cioè di colpire al momento giusto. Da esempio si veda il gol dell'1-0 di Augustus, in cui il Campobasso ha segnato toccando tre volte il pallone, con altrettanti giocatori diversi. Il tutto è scaturito da un fallo laterale di Bisceglie. Ci riferiamo ovviamente alla partita di Fabriano. 3-0 è il risultato anomalo per un Campobasso che aveva delle lacune di carattere offensivo che sembrerebbero essere state risolte. Il modulo è rimasto quello, ma gli interpreti sono un pochettino più offensivi rispetto a prima. Per cui sì, stiamo segnando, stiamo creando e quindi, ripeto, non credo di aver trovato la formula giusta, però per adesso sta andando bene. Una statistica importante narra che sono poche le squadre del Girone F che hanno scelto di collocare un fuori quota in attacco. Tra queste rare formazioni la maggior parte ha optato per un classe 98, ma solo il Campobasso con Augustus Carbò e l'Aquila con Esposito sono state in grado di piazzare un classe 99 in attacco, cioè l'under più giovane dei quattro obbligatori. Un dato che può e deve fare riflettere ed è certamente indicativo del fatto che quest'anno, diversamente da molte altre stagioni di un passato anche recente, il Campobasso sembra aver azzeccato molte scelte in fatto di fuori quota. Le menzioni speciali non vanno al solo Augustus, ma si vede anche lo stesso portiere Landi, ovvero Capozzi, Bisceglie ed Elefante. In generale il parco dei Bebi Rosso-Blu è sicuramente di buon livello. L'obiettivo deve essere quello di vivere la giornata. Non è cambiato granché il distacco dal quinto posto che rimane a sei punti, ma la condizione fisica e mentale dei ragazzi di Foglia Manzillo lancia sicuramente segnali incoraggianti circa, un tentativo di rimonta che avrebbe i connotati quasi dell'impresa. A margine della gara vinta a Fabriano abbiamo sentito un interessante intervento di Ciro Danucci, giocatore in crescita, che si esprime pure sulle differenze tra il primo Campobasso di Foglia Manzillo e quello attuale. Sì, sicuramente c'è un approccio diverso dal punto di vista offensivo, nel senso che oggi si gioca ad esempio con Varsi e Gerardi Mezzali, che sono propriamente portati ad offendere. Poi abbiamo comunque Del Prete, anche uno molto offensivo. In più comunque abbiamo la possibilità, sia con la velocità di Augustus, ma anche con Pietro che sta facendo ottime cose. Aspettiamo anche il migliore Vago, perché io lo conosco molto bene. Vago è un giocatore che sicuramente si fa trovare pronto e poi una volta che comincia a fare gol non si ferma più. Quindi siamo, secondo me, più completi dal punto di vista proprio come organico, anche se comunque è andata via gente importante, quindi voglio dire... Tra tutti d'Agostino. Sì, tra tutti d'Agostino, ma anche non dimentichiamoci dietro Lagnena, Leone. Comunque hanno dato un apporto importante al Campobasso quando ci sono stati. Poi del resto stiamo crescendo un po' tutti. Io personalmente, come dicevi tu prima, ho pagato l'inattività, perché io l'anno scorso sono stato fermo da aprile, da metà aprile, quindi sono stato tanti mesi fermo. Ora sto ritrovando comunque la forma migliore. Sono contento, perché comunque mi piace lasciare di dove gioco degli ottimi ricordi.